Vi dico solo che non cambio né la cover né la pellicola più o meno da un anno, sono passato da Martina apposta, fai tu. E' avvisato che sto dalacone sportissimo. Vabbè, andiamo a vedere. Iniziamo con una bella pellicola di vetro scena, quindi la inizio a togliere. Manco si toglie. Hai scelto una pellicola, c'è anche a Pacapraeva. Sì, si, si sa mai che quando dormo la mia ragazza vuole prendere il mio telefono e lo lasciamo stare. Non la fermerà una pellicola a Pacapraeva, sì. Quindi, stai tranquillo. Vediamo un po'. Noi donne siamo agenti 007. Allora, devo riproverare Luca perché venne sabato, sabato. Sì. Disse, vengo dopo e non sei venuto più. Colpa di Alice? Mi si è staccava l'unghia completamente dalla carne. Sono perdonato? Sì, siete perdonati, dai. Ok. Oh, va che bella cover. La voleva mettere via, l'ho detto non metti la verde. Menù. Una meraviglia.